buongiorno presidente un saluto a tutti i cavalieri del lavoro e gli altri partecipanti alla riunione provo oggi grande emozione perché questa nomina mi riporta alla memoria mio padre già nominato cavaliere del lavoro proprio 20 anni fa ho 61 anni sono laureato in giurisprudenza sono innanzitutto presidente del consiglio di amministrazione della bs holding che sarebbe la holding di famiglia che condivido con gli altri miei due fratelli cursio e patrizi all'interno di questa holding c'è la detenzione della partecipazione al cento per cento della prima sole components e è diciamo l'attività più importante della nostra famiglia è un'azienda che si occupa di componentistica in plastica per mezzi di trasporto ed elettrodomestici possiede due centri di ricerca in italia a 11 stabilimenti produttivi in italia e 9 stabilimenti all'estero segnatamente in gran bretagna in germania in solovacchia in polonia e in brasilia nostro gruppo oggi a 4.000 dipendenti a un grado di internazionalizzazione superiore al 60 per cento e ha avuto un processo di crescita che ha portato il nostro gruppo a quadruplicare il fatturato negli ultimi dieci anni malgrado diciamo la forte vocazione internazionale il nostro gruppo ha anche un forte legame con il territorio noi ad esempio per quanto riguarda le attività formative abbiamo contribuito in misura fondamentale alla creazione di un istituto tecnico superiore nel settore della meccatronica abbiamo provveduto anche a realizzare uno stadio di ultima generazione tre anni fa del mio impegno sul versante dell'associazionismo e della formazione scientifica vi parlerò magari in un'altra occasione colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno voluto in questa bella e grande famiglia e dedico questa nomina proprio alla mia moglie e al resto della mia famiglia e soprattutto ai miei collaboratori senza senza di loro probabilmente non avrei mai potuto ottenere in vita mia questo onore grazie ed arrivederci a